Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! L'ambientazione di isole fluttuanti dove potremo sperimentare vari approcci nella risoluzione delle quest. Si parla di divinità, si parla di persone. Il gioco alterna quella grafica pixelosa a queste immagini comunque molto carine. Il mondo che è stato per lungo tempo rotto, la sua superficie è maledetta. Tu sei un dweller, uno scavatore. Qui, praticamente nella cella dell'inquisizione, mangi il tuo pasto. Ok. Bello, è doppiato bene. I sogni dell'infanzia scorrono nella tua mente. Praticamente, io ero un apprendista. Il corpo cresce, la mente prende form. Per un momento, tu hai eccelso in... E' uno scola. Ok. Siamo stati incatenati, insomma, e sono un mago ambizioso. Ok. Questa è la grafica. Potrebbe ricordare molto un... non lo so... un Daggerfall. Ma Daggerfall non è. Vediamo all'esterno il mondo molto particolare. Il gioco, tra l'altro, ha preso ottime recensioni. Ehm... sì. Fatemi prendere un po' di roba. Lo sto provando adesso insieme a voi la prima volta, eh, quindi... Vale. Prigioniero... Sei stato marchiato per un temporaneo rilascio. L'alto confessore ti incontrerà nella camera centrale. Non farlo aspettare. Perché sono stato rilasciato? Solo l'alto confessore può rispondere a questo, ma... Allora, praticamente, c'è otto possibilità su dieci che ti sia stata garantita l'onore di una gloriosa e sacra morte. Ah, grazie. Come è umano, lei. Fa un po' anche Warhammer, eh, devo dire. L'inquisizione, queste cose qui. Comunque, dov'è questo Shure qui? Eccolo qua. Ok. Questo si mette davanti. Una voce di donna. Il tuo servizio è richiesto, prigioniero settimo. Eh, diciassettesimo, scusate. Non è il mio nome. Fa rumori, insomma, di colpi di tosse. Tu hai perso il tuo nome, il diritto del tuo nome, quando tu hai tradito. L'unione apostatica. Ah, quindi ho tradito questa unione apostatica. Boh. Il numero è quello che tu meriti. Ma ti offro la chance di redimerti, un'opportunità per i tuoi crimini volgari. Io sono l'alto confessore di questa inquisizione tribunale di combattimento. Stiamo tracciando numerosi criminali e tu ci aiuterai. Come esattamente? Il tuo bersaglio è conosciuto per un po' di tempo. Un arcipelago. Ok, del territorio dell'Unione. Ok. Conosciuta come... Vado veloce, poi in realtà lo giocassi io personalmente. Lo leggerei molto con calma. Ci sono isole fluttuanti. Che è pieno di fuorileggie, miscredenti, insomma. Noi siamo arrivati alcune ore fa e abbiamo incontrato una certa resistenza. Il nostro bersaglio è un... Is the in the Binding Light Fortress. Ok. Una fortezza del faro, insomma. Degli Old Star Mercenaries. E il suo leader è il noto... Vela Callose. Immagino di non avere scelta. Prima che tu vada, prendi questo journal, il diario dell'inquisizione. Un braccio meccanico ti pone... Ok. Tracerà la tua missione. I miei droni possono offrierti guida. Al posto più vicino, insomma. Va bene, queste cose... Bellissima l'animazione. Bene, posso... Oh, sono caduto di sotto. Posso andare, quindi, signor inquisitore? Bene. Andiamo. Salve. Le porte danneggiate possono essere tutte con un'arma. C'è un forziere vicino a me. Prendi la spada e premi l'inventario. Ok. Ricorda di usare il tasso dell'attacco. Ok. Rastisword. Ok. Quindi premiamo l'inventario, che sarebbe il tab. Equip. Ok. E abbiamo, quindi, l'inventario. L'equipaggiamento. Abbiamo... Delusions. Le credenze sono tutto. Come delusion... Questa è la tua potenza. Trova abbastanza glimmers di delusion, esplorando il mondo, completando quest, e ti garantiranno una full delusion. Delusion. Che può essere spesa per aumentare una dei tuoi corattori... È il punto di esperienza, praticamente. Va bene. Questi sono i parametri. Da lockpick, lore, charm, butter... È un gioco di ruolo. Ma come giocare con Elder Scrolls? Con grafica alla Daggerfall. Questo è il mio passato. E questo non so cosa sia. Probabilmente avrò gli incantesimi. Comunque... Ok, andiamo. Pozione. Non so come ci è sicura, ma... Il mondo... Il mondo è... Il mondo è fantastico. Cioè, adesso... Il mio entusiasmo è per il fatto che... Se è fatto volutamente così... Cioè, mi fa rivivere... Quelle emozioni. Ma più che altro, anche per il fatto che... Per il fatto che... Fosse un gioco vecchio, anni 90... Sarebbe ottimizzato male. In 4 terzi. Questo è in 16.9. Normalissimo. Grafica normale. Volutamente fatto così. Volutamente vecchio. E chi lo ha provato. Chi lo ha approfondito. Chi lo ha giocato a fondo. E lo ha recensito. Ne ha parlato comunque bene. Quindi... Ok. Che cosa fai qui? Un altro... Wretched Souls. Mi mancano questi termini qui. Wretched Souls. Anima persa. Ratturata dall'inquisizione. Dalla rete dell'inquisizione. Senza dubbio. Dimmi. Il tuo alto confessore ti ha mandato a morire? Sì. Un sorriso melancronico... Malinconico... Compare sulle sue labbre. Può essere terribilmente crudele. Non è vero? Guarda... Che bene straniero. Mettiti in testa le mie parole. Qualcosa mi dice che tu hai il tuo ruolo da compiere qui. Posso attaccarti? No. Bene. Posso... Come la metto via l'arma? Ah, la parata è così. Ok. Soldi, soldi. E qua abbiamo... C'è un numero di skill che determinano la tua, diciamo, efficienza in certi task. Alcune sono attive, come lockpicking e lore, che ti permettono di interagire con oggetti nel mondo. Altre sono passive, come difesa e rigenerazione. Sì, non vedo l'ora che questo gioco venga tradotto, perché... Sì, venga tradotto, perché potrebbe essere molto interessante. Questo mi rialza il mana. Tra l'altro non so nemmeno come fare a prendere le pozze. Ah, qua. Ok. Vabbè, intanto qua si può demolire, no? Andiamo avanti. Qua, probabilmente si può demolire anche questo, c'è dentro un'altra pozione. No. L'assortimento di munizioni per armi a distanza richiede un arco. Ok. Qua cosa c'è? Perché l'esplorazione nel mondo hanno detto che è tutto. Qua abbiamo i coltelli da lancio. Va bene, dobbiamo andare avanti, quindi andiamo avanti. Perché poi si accederà a nuovi mondi. A nuove... Non nuovi mondi, ma nuove isole fluttuanti. La strada avanti è pattugliata dalla Dark Star... Dalli mercenari della Dark Star. Ti raccomando fortemente di muoverti furtivamente per evitare. Il conflitto diretto è solitamente evitabile. Ok. Quindi ci possiamo muovere furtivamente. Molto bene. In molti casi il combattimento è evitabile. Parimi crouch per muoverti e i tuoi passi non faranno alcun rumore. alternativamente puoi sgattare l'aria dietro al nemico per fare uno stealth attack. Quindi tecnicamente loro non sentiranno i miei passi. Posso fare uno sneak attack. Proviamo. Perché qua hanno già ucciso un po' di gente. Quindi speriamo non si volti di colpo. Sneak attack. Buon Dì. Ok. Si luta, si luta. Cos'è qua? Cosa c'è qua? Si può entrare. Le fiamme sono molto particolari. Niente, non si può entrare. Comunque c'è un ponte con un... Ah, ok. Tenendo premuto posso fare un attacco molto più potente. Ok. Ma qua hanno ucciso tutti. Quello chi è? Parle. Ah, no. Posso parlargli. Non parla. Non dà la mano. E la nostra gente sta morendo. Ma potrebbe essere ancora in grado... Ok. È stato prigionario per un po' di tempo. Praticamente vuol farci usare la skill. Sei uno dei locali? Sembra che ti guarda dall'alto in basso con disgusto. Uso charma. Con cui aiutare il tuo inquisitore mi ha chiesto di catturare vela callosa. Ho avuto successo. Ah, ti riconosco ora. Sei uno dei prigionieri dei. L'inquisitore deve essere veramente disperato. Grazie. Va bene. Segui il fiume. E troverai una cascata. Ok. Prendiamo i soldi. Seguo il fiume. Non ho trovato ancora la mappa. Mannaggia. Non ho premuto M così sulla fiducia. Segui la... Il fiume. Seguo il fiume e trovo la cascata. Ok. Ma scusate. Se io adesso andassi qui a vedere le tasche... Non mi... Non mi dà nulla, no. Vabbè. Se mi dice di seguire qui... Qua si può prendere. No. Seguo. Ok. Soldi, soldi. Eh. Sono arrivato alla cascata. Ma c'è qualcosa dietro? No. Classico. Cosa devo fare? Va bene. Può salvare in qualche modo, no? Però ci sono soldi da lotare ovunque. È un gioco sicuramente che 9 su 10 non fa per voi. Per la maggior parte delle persone. Però... Tenete conto, costa 16,79 euro. E potrebbe essere interessante. Adesso, io non so nulla se abbia... Perché le cose che io adoro in questo gioco è l'housing. Quello che si potrebbe fare anche in un gioco come Daggerfall. E non so se qui ci siano mount, ci siano altre cose. Però ci guarderemo. Questo è il lockpick. Ah, praticamente... Ho rotto il lockpick. Praticamente devo... Tira un dado. Ok. E se esce lo stesso numero, vinco. Ok. Ho fallito, ho rotto. Me l'ha fatto prendere un altro. Ed entriamo qua adesso. E saliamo e vediamo. Salve. In questa stanza, i candelabri sulla parete sono stati incantati per sigillare un passaggio segreto. Per trovarlo hai bisogno di abbastanza lore skill. Ok. L'incantesimo abbasserà il tuo mana. Ok. Quindi praticamente alcune porte possono essere aperte con meccanismi nascosti. Questi switch segreti, switch segreti, interruttori segreti richiedono abbastanza skill di lore. E una piccola quantità di mana per sbloccarlo. La lore è governata dalla tua wisdom. Dovresti essere in grado di comunque aumentarla con equipaggiamenti speciali. Perfetto. Quindi io posso capire... Ah, usando il mana capisco che qua si usa questo e che usa questo. Se non avessi abbastanza skill probabilmente non potrei aprirlo. Comunque va bene, andiamo avanti con la quest. Finiamo il tutorial, giusto per darvi un po'. L'inquisitor Ignavius ti sta aspettando nella colonna dell'inquisizione, prigioniero diciastesimo. Ti raccomandiamo fortemente di parlargli prima di andare avanti nella tua probabile sconfitta. Duella. La torre è quella lì. Ok. Lì davanti vedo dei robot. È un po' un misto tra un Fantasy Warhammer a 40.000. Comunque saliamo. Eccolo qua. Che odore senti, prigioniero? Io sento grasso di motore. Scusate la testa. Questa nave, queste navi dell'inquisizione sono stato dell'arte. Vabbè, non odore mai niente. Non ho mai visto così tanti funghi in vita mia. Vabbè, arriva una però. Dan Fine Tea. Praticamente, se tu torni vivo, portami del tè di funghi per mia moglie. Ok. Ti dà uno schiaffo su una spalla. Molto bene. Dove sono le buone maniere? Gli stringo la mano. La stringe anche lui con fermezza. E lui punta la fortezza davanti. Quello è il Binding Lake. La fortezza di vela callose. Leader del Dark Star Merchery. Ok. Devi catturarla viva. Come entro? Dove di quel grande cannone? Devi ucciderli tutti. Attivare il meccanismo. C'è un modo di evitarli? Ah, posso fare... Ok, dai. Vabbè, c'è un modo. Appartemente, c'è stato detto che c'è un modo di entrare. C'è furtivo. Quindi senza dover abbattere orde di nemici. Infatti, dovrei andare dove c'è quel cannone lì. E va bene. Cosa vuole questo? Crystal Point ristoriano in mana. Ok. Teleportation spell. Salve. Sì, adesso saltiamo un po' di dialoghi, se no leggiamo solo quello. Ok, ci osserverà. È intrigato da noi. Questo? È nostro. Allora, praticamente, noi ci muoviamo. Sneaky Sneaky. Cercando di capire dove entrare. C'è l'entrata lì. E tecnicamente noi dobbiamo andare dentro. Adesso recuperare la tizia. Cioè, recuperare, rapire la tizia. Catturarla viva. Ci sono morti ovunque, pozioni. Ci sono morti ovunque, pozioni. Insomma. Sono vecchie macchine. Qui c'è gente. No, 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 no. Sì. Però è anche una bella routine, devo dire, come movimento i nemici. Collo lì, collo lì. Mi ha visto. Davanti i marrani. E' armato questo. Quindi sarà difficile batterlo. Se non andandogli alle spalle e abbattendolo così. Perfetto. Adesso vorrei provare anche a prendere una pozione. E' bella animazione. C'è un forziere. Mi ha visto. L'arciere contro la spada dura veramente poco. Salve. Ah, l'ho messa via. No? Non so cosa ho fatto, ma... Alla fine lo stealth è andato un po' a quel paese. Bello anche l'umore dei passi. C'è l'ascensore. E' molto, 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 molto interessante il gioco, eh. Andiamo al piano sopra. Quindi tecnicamente dovremmo vedere anche da dove siamo arrivati. No, è probabilmente dall'altra parte. Comunque lì sopra è il... Lockpick. Scassinare. Ma dove eravamo prima? Sì, secondo me è giocato così non è neanche l'approccio ideale perché mi perdo probabilmente tante cose. Tanti segretti, tante cose da scoprire. Iron Ore. Ok. Però... Ovviamente non vedo l'ora, e dico sul serio, di sapere le vostre esperienze. Nel senso che se voi l'avete giocato, e l'avete sicuramente approcciato in modo diverso da me, e soprattutto l'avete giocato una vita, potete farmi sapere che cosa ne pensate. E soprattutto cosa mi sono perso. Allora, qua abbiamo ancora dei vecchi macchinari. La porta qua. Ma non mi fa interagire con questa roba. Sono tutti vecchi macchinari, ma non abbiamo nulla di interagibile. Quindi continuiamo a salire. Ascensore lì. Soldi, che poi mi serviranno sicuramente per comprare qualcosa. Comunque, stiamo andando su. Però va su ancora. Eccola lì. Vela callosa sta... Ok. Ok. Le mie scuse. Vengo in nome dell'inquisizione. Per essere disperato a mandare te. E se ne vanno. Rivedarci. E volano via con la nave volante. Quindi era abbastanza scontato il fatto che... Però questa è la sua stanza, quindi probabilmente qua possiamo trovare della roba interessante. È interessante. Entis. È un incantesimo questo. Ricarico il mana. Vediamo un attimo solo degli incantesimi adesso. Sì. Return home. Lancio questo. si lancia l'incantesimo così col tasto destro è praticamente skyrim canno cast ok non posso castarlo adesso perché devo fare altre cose allora ma che cavolo è questo posso aggiornare la proprietà ma da dove ma perché praticamente posso costruire il quartiere cioè ok mi sono già praticamente mezzo risposto sulla possibilità di costruire roba nelle nelle fortezze perché va beh io adesso sta fortezza qui che probabilmente diventerà mia ma voglio capire adesso non possono tornare indietro no non posso castare questa roba però allora si può costruire training room workshop molto interessante sta cosa molto molto interessante comunque io credo questo punto ah ok ha bisogno di riparazioni questa fortezza quindi io adesso ho conquistato una fortezza e non posso comunque andare giù non posso saltare giù come cacchio voglio no devo andare giù quindi praticamente diventa molto più interessante di quello che sembrava perché si può possedere la fortezza e quindi conquistato è questo qui secondo me un gioco che potrebbe restare qui in attesa di qualche traduzione interessante perché non è non è assolutamente male allora devo capire anche si scende da qui ok lift is not active quindi cosa devo fare scusami cioè qua c'è una nave devo guidarla di scateness to be prepared ma che devo fare adesso scusate ma se io vado qua nel devo cercare quello non so dovrò sicuramente approfondirlo magari lo portiamo in live una volta comunque dato che siamo andati un po per le lunghe è molto interessante ne parlano bene è un gioco innegabilmente fatto bene fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay alla prossima e ciao ciao